Buongiorno, sono Ennio Taviani, sono direttore di Onere SRL, una piccola azienda che si occupa di automazione localizzata a Genova e abbiamo rapporti stretti con l'università, nel senso che numerosissimi studenti, che poi a volte diventano anche nostri dipendenti, sono passati da noi per svolgere le proprie attività sia di tirocinio che di tesi, che poi essere assunti mediante contratti di apprendistato di alta formazione presso di noi. È importante essere qui proprio per questo, perché il rapporto della nostra azienda, che è un'azienda di tecnologia, con l'università e con i suoi dipartimenti scientifici per noi è assolutamente fondamentale.